Mi è piaciuta la semplicità del corso, è rapido, è veloce, efficace e quindi questo è quello che cercavo, quello che ho cercato in tanti altri corsi e qui l'ho trovato. Proprio perché in modo semplice si va a lavorare su dei blocchi e a ripulire, abbiamo bisogno di ripulire, ripulirci da tutte le sovrastrutture, questo è un corso che aiuta a farlo, assolutamente. Sicuramente ho sciolto delle cose perché avevo dei dolori che sono spariti, quindi qualcosa sicuramente, non ho ancora la consapevolezza razionale, ma sicuramente qualcosa ho sbloccato. Ciao Patrizia, grazie, grazie per tutto l'aiuto, grazie.